L'ornamento non è mai stato un delitto, anzi fa parte della nostra cultura. I più grandi architetti italiani hanno sempre giocato molto e progettato molto con l'ornamento, più dal punto di vista della superficie e meno forse dal punto di vista del decoro, prettamente superficiale appunto. E quindi non è più un delitto l'ornamento, anzi qua abbiamo un'idea più precisa di come si possono usare materiali con superfici decorate. C'è un mondo che si apre alla creatività dei progettisti.